Coraggio! Rialziamoci più forti e riposati! Dolomiti Materassi, sempre vicino ai propri clienti, fino al 31 agosto sconta tutto dal 25 al 50%. Certo, dormire sereni e tranquilli in questo periodo non è facile, ma Dolomiti Materassi ti può aiutare con prezzi super scontati! Dolomiti Materassi, a Belluno, Feltre, Fiera di Primiero e Pordenone. E attenzione! Nuova apertura a Tai di Cadore con inaugurazione il 17 e il 18 luglio.